Per settimane in città non si è parlato d'altro, nei pub, nelle piazze, sui social network. E adesso ci siamo, andiamo a vedere loro, i tifosi, come vivranno questo match. E adesso ci siamo, andiamo a vedere loro, i tifosi, come vivranno questo match. E adesso ci siamo, andiamo a vedere loro, i tifosi, come vivranno questo match. L'importante non è né vincere né perdere, l'importante è essere protagonisti. Mi auguro prima di tutto che si divertano tutte e due le squadre e ci fanno divertire a noi tifosi, sia della Nuova Florida che del Torso Lorenzo. E il mercato deve fare grandi parate. Si è appena concluso con la vittoria del Torso Lorenzo. Il derby tanto atteso, che adesso continuerà con un lungo terzo tempo. Sarciccia Campio Show! Sono Selvania che siamo noi!